Si vuol dire che oggi è stata siglata una tregua tra voi e il Governo? Non c'è mai stata una guerra. Io credo di essere entrato dal Presidente del Lanci in questo palazzo per discutere con i rappresentanti del Governo, col Presidente del Consiglio, o il Sottosegretario, o il Ministro ogni settimana. C'è una normale attività di relazione, di confronto e di negoziato tra chi rappresenta 8.000 comuni e il Governo che c'è stato, c'è stato anche oggi e continuerà. Il DEF, il Presidente del Consiglio, ha chiarito e detto con molta chiarezza che allo Stato attuale un testo del documento economico-finanziario non esiste, esistono bozze di lavoro. Quelle bozze di lavoro non vanno quindi assunte come decisioni adottate e in particolare che il DEF che il Governo si appresta a varare non prevede nuovi tagli a carico dei Comuni e che in ogni caso del DEF il Governo intende discutere a partire da settembre quando sulla base del DEF bisognerà redigere la legge di stabilità da portare al Parlamento per il 2016. Ciò che riguarda le città metropolitane abbiamo anche richiesto la conferma, ed è il Governo è venuta, dell'intesa realizzata in conferenza unificata alla fine di febbraio per la consistente rimodulazione in basso delle sanzioni previste per città metropolitane che hanno ereditato da precedenti province sforamento di patto di stabilità. Abbiamo posto questa questione che in conferenza era stata già risolta con un accordo in cui il Governo aveva accettato la rimodulazione non perché noi non si voglia ottemperare a sanzioni quando si violano delle norme ma perché nel caso specifico si passa da un regime istituzionale a un regime istituzionale nuovo ci sembra non fondato caricare su enti nuovi conseguenze di scelte fatti da enti precedenti e in ogni caso faccio il caso di Roma per una città metropolitana come Roma che già ha un taglio molto oneroso se si aggiungesse anche una sanzione come prevista dall'attuale legge altrettanto onerosa questo determinerebbe una insostenibilità finanziaria per la città metropolitana. Sì, così è parlato del taglio delle partecipate? No, non si è affrontato il tema delle partecipate ma posso dire con grande chiarezza che l'Anci riconferma l'assoluta disponibilità a sedersi a un tavolo col Governo in qualsiasi momento per affrontare il tema della riorganizzazione del sistema delle aziende partecipate perché siamo i primi noi a essere consapevoli che avere migliaia e migliaia di aziende la maggioranza delle quali di piccole dimensioni e quindi in un affanno quotidiano nella loro attività sia una condizione che va superata e quindi noi siamo pronti a discutere col Governo di norme e regole per favorire processi di aggregazione di riorganizzazione del settore partecipato e segnalo che alcune misure già previste in questa direzione nella legge di stabilità 2015 sono state inserite in quella legge su proposte avanzate dall'Anci. Possiamo dire che è un taglio necessario quindi? Possiamo dire che è necessario mettere in campo una riorganizzazione che consenta di garantire ai cittadini i servizi pubblici che quelle società erogano a costi possibilmente i più bassi possibili con livelli di efficienza e di produttività. Per fare questo è chiaro che occorre superare la polverizzazione che attualmente caratterizza il sistema delle società pubbliche prevedendo processi di riorganizzazione e di riaggregazione peraltro che sono già in corso in alcune regioni e in alcune situazioni.